Nei giorni scorsi il comando provinciale della Guardia di Finanza di Catanzaro nell'ambito dell'esecuzione di un provvedimento di carcerazione emesso dalla locale procura della Repubblica ha tratto in arresto un cittadino italiano residente a Borgia condannato in via definitiva a 4 anni e 6 mesi di reclusione per reati fallimentari. Il 57enne ex titolare di uno studio medico specialistico con sede in Catanzaro si era reso protagonista di un grave episodio di bancarotta fraudolenta avvenuta nel 2011 in quanto al fine di arrecare un pregiudizio ai creditori aveva occultato la documentazione contabile e distratto diversi beni della società tra i quali numerose apparecchiature mediche pc e arredi per ufficio. La procura della Repubblica di Catanzaro a seguito della condanna inflitta dal tribunale divenuta irrevocabile nello scorso mese di maggio ha emesso il conseguente provvedimento di carcerazione eseguito dai finanzieri della tenenza di Soverato che hanno associato il colpevole alla casa circondariale di Catanzaro. Il citato provvedimento inoltre ha sottoposto il soggetto alle pene accessori dell'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale in capacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa e dell'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni. Questa attività suggella il ruolo della Guardia di Finanza quale forza di polizia specializzata nell'assicurare alla giustizia i colpevoli di gravi reati economici a tutela delle regole di trasparenza e di funzionamento del mercato nonché della libera concorrenza e del credito.